Il Centro Commerciale Naturale di Torregrande muove i primi passi. Dopo la costituzione ufficiale, il primo vertice in comune, oristano alla presenza della Confcommercio. Sì, è stato un incontro molto importante che ci ha permesso di chiedere le basi per iniziare. A breve ci sarà un altro tavolo di lavoro e vedremo come iniziare il tutto. Circa 30 attualmente i commercianti della Borgata che hanno aderito al progetto con un obiettivo ambizioso. Gli obiettivi sono riportare la Borgata a splendere come un tempo quando era considerato un fiorallo filo oristano e lavorava con la città per attirare turisti, mentre ora la città di oristano non è per niente una destinazione turistica e deve lavorare assolutamente per questo. Non c'è tempo da perdere il primo banco di prova già la prossima stagione estiva. Inizieremo prima della stagione estiva, abbiamo già degli obiettivi in programma che definiremo a breve insieme al comune oristano.